Ah che palle, dovevo avere il mal di gola proprio oggi che registro suo nuovo format. Comunque, negli ultimi tempi mi sono chiesto parecchio se fare il vaccino o no. Non è per niente, è che da oltre un anno continuo a pensare, ma sì appena posso sarà la prima cosa che farò. Ma poi parlandone con alcune persone a me care, le cose non sono andate proprio come previsto. Non sono un coglione, è che c'era l'open day di AstraZeneca, io lo voglio fare il prima possibile il vaccino, quindi... Ma tanto, la... Non posso fare, non posso fare quell'altro al momento, preferisco fare AstraZeneca subito. Tanto l'open day, c'era l'open day, io ho 25 anni, sono una persona in salute, quindi... Ammetto che ci ho pensato parecchio, ma sì, ho deciso di farlo. Nonostante i pareri super contrastanti, ammetto che un po' di ansietta c'è ancora. Per intenderci, non che io sia un Novax o altro, solo che dopo tutte le cose che si sono sentite, dopo tutta la pessima comunicazione a cui siamo stati esposti quest'ultimo periodo, è anche normale avere un po' d'amor proprio e farsi due domande. Va bene che vaccinarsi è importante, ma lo è ancora di più vivere, no? Ma veramente? Caputana... Parla bene e usa l'educazione, è chiaro? Comunque, purtroppo conosco molte persone che non hanno intenzione di fare il vaccino e non è... non che io voglia convincerli o altro, solo che ho preferito chiederlo a voi. Ciao belli, stamattina ho una domandina per voi. Come convincereste una persona a vaccinarsi? Cioè, cosa... cosa le direste? Fatemelo sapere qui perché sto sperimentando un nuovo format. Ciao. E mi ha sorpreso sapere che ci sono così tante persone che sono pro al vaccino. Caspita, mi avete davvero sorpreso. Se è più una cosa di paura, ok, magari la tranquillizzi dicendo guarda e spiegando tutte le cose scientificamente. Però se è una di quelle persone no-vax, più che dirgli robe intelligenti e scientifiche, perché non le ascolterebbe, io punterei più su robe tipo ma sai che se poi non ti vaccini non ti fanno andare da nessuna parte, non puoi più vivere normalmente. Oh bello, buongiorno, come stai? Senti, io sto iniziando un vlog e non so esattamente cosa diventerà, però so solo che volevo documentare sia questo audio che ti sto mandando, sia la risposta a questo audio. Quindi la mia domanda è come è andata, come stai, come... Non lo so, hai visto che hai fatto il vaccino ieri, fammi sapere come stai. Ciao. Bella Nico, allora, tutto a posto, il dolore al braccio è diminuito, pensavo di star molto male rispetto a ieri, oggi. In realtà niente febbre, niente... solo mi colo un po' il naso, per il resto tutto a posto. Stavo peggio ieri alla fine, ero più rincognito ieri, oggi sto bene dai, niente di tragico. Ancora sto bene, mi sono passate, quante ore? Due ore. Direi, ottimo. Fatto sta che io ho deciso di farlo, non solo per me, ma per le persone a me care, ma anche banalmente per le persone che incrucio per strada, perché voglio tornare presto a fare la vita di prima, anche se mi lamentavo sempre. Però almeno non c'era questa c***o di mascherina e non c'era questo c***o di distanziamento sociale che lo odio. Comunque, ironia della sorte, non ho avuto particolari effetti collaterali e me la sono cavata con praticamente un giorno di riposo. Ho scelto di farlo nonostante i rischi, proprio perché non vedo l'ora di tornare alla vita di prima. Tornare presto alla normalità, premere play a tutte quelle cose che abbiamo dovuto mettere in pausa per la pandemia. Non so quale scelta farete o se ci sarà qualcosa che vi farà cambiare idea. Sta di fatto che le scelte più importanti della propria vita sono anche le più difficili. E non possiamo sempre scegliere di non scegliere o di tirarci indietro. Quindi fate la vostra scelta come io ho fatto la mia e non rompete il c***o. Musica Grazie a tutti.